Come si spiega? Domanda, come si spiega il comportamento avventato? Guida, in alcuni momenti dell'esistenza i pensieri e i sentimenti si scontrano nell'individuo in maniera talmente complessa e incessante che gli crede di aver raggiunto una soluzione, mentre era soltanto una deduzione incompleta o errata. Poiché ciò che pensa il corpo mentale nella sua parte inferiore si traduce in azione all'interno del piano fisico, ecco che accade il comportamento avventato.